L'Italia vanta circa 600 differenti tipi di formaggi, sia ovini che caprini, che ottenuti dal latte vaccino. Non è quindi azzardato affermare che esiste un vero e proprio dialetto caseario, di cui i grana, tanto il padano quanto il parmigiano reggiano, sono una sorta di lingua madre. Una peculiarità assoluta dell'arte casearia italiana sono i formaggi a pasta filata, il fior di latte, le provole, il caciocavallo e di cui la mozzarella da latte di bufala è il formaggio più noto e garantito DOP, la denominazione di origine protetta. La biodiversità è, insieme alle prassi tradizionali, che oggi vengono declinate con tecnologie di avanguardia, il tratto distintivo dei formaggi italiani che affondano le loro radici nelle transumanze e nei pellegrinaggi. I nostri formaggi profumano della diversità dei pascoli e hanno il sapore del latte delle diverse razze animali. E dall'abilità dei pastori è nato anche un ulteriore prodotto unico, la ricotta. Il valore dell'alpeggio è una delle maggiori peculiarità, oltre che uno dei principali fattori di qualità dei formaggi nostrani, coniugata con la diversità delle varie razze vaccine. Ciò consente anche la produzione di formaggi a latte crudo e un'articolazione di tipologie e sapori unici al mondo, ma impone anche un'attentissima tutela ambientale e la centralità del benessere animale. Erborinati, a pasta filata, caprini freschi e stagionati, infinite declinazioni di aromi, profumi, consistenze. Il carrello dei formaggi italiani è vastissimo e la qualità del prodotto è diretta conseguenza della qualità ambientale e dell'abilità del casaro. I formaggi sono peraltro uno dei must della cucina italiana e declinazione territoriale dei nostri sapori.